Sono le persone ai margini della società a subire maggiormente il covid. Se è vero che la malattia colpisce ricchi e poveri indiscriminatamente, lo stesso non si può dire delle conseguenze economiche. Secondo uno studio della regione, volto a tracciare il profilo sociale abruzzese, l'indice di povertà delle famiglie nel 2019 si attestava intorno al 10% ed è salito al 12% nel 2020. Nell'anno della pandemia sono aumentate le persone a rischio povertà o esclusione sociale, così come quelle con difficoltà ad arrivare a fine mese. In Abruzzo nel 2020 sono state stimate 42.000 famiglie in povertà assoluta, 7.000 in più rispetto al 2019. L'individui a sopravvivere con difficoltà nella nostra regione nel 2020 sono stati 121.000, ben 21.000 in più rispetto al 2019. Di questi 26.000 sono minori, 4.000 in più rispetto all'anno precedente. Inoltre in Abruzzo vi sono 65.760 famiglie che vivono sotto la soglia di povertà relativa, ovvero che hanno difficoltà a fruire di beni e servizi. La situazione era già critica prima del Covid. In Abruzzo nel 2019 il reddito disponibile lordo pro capite era di circa 16.500 euro, il 13,6% in meno rispetto alla media nazionale. Stessa cosa riguarda la qualità dell'abitare. Nel 2019 la percentuale di coloro che abitavano in case sovraffollate, senza gabinetto interno, oppure con finestre, pavimenti o tetti rotti, oppure senza doccia o con problemi di umidità e scarsa luminosità, era già oltre il doppio di quella nazionale. Parametri questi peggiorati nel corso della pandemia. Per quanto riguarda il lavoro, i dati sono in linea con il resto del paese. Il tasso d'occupazione, tra il 2019 e il 2020, è sceso di circa un punto percentuale ed è aumentato il gap tra uomini e donne. Tra i due sessi c'è una disparità occupazionale del 24%, mentre in Italia è del 20%. Il tasso di disoccupazione invece è addirittura migliorato, grazie anche a politiche intraprese, qual è il blocco dei licenziamenti. Ma quali sono le famiglie abruzzesi che hanno maggiormente subito l'effetto Covid? Secondo lo studio della regione, ad impoverirsi sono state le famiglie di stranieri, quelle più numerose, quelle in cui il cosiddetto capofamiglia è giovane, quelle i cui componenti svolgono i lavori più umili, quelle monogenitoriali e che vivono in aree meno urbanizzate. Insomma, immigrati, donne, giovani, operai, soprattutto nelle zone più provinciali. Al contrario, il Covid, ben lontano dall'essere una livella, ha reso i ricchi ancora più ricchi. Nel 2020, secondo l'indagine del World Wealth Report, in Italia i paperoni, con a disposizione un patrimonio investibile di almeno un milione di dollari, sono aumentati del 9,2%, tre punti percentuali oltre la media mondiale. Costituiscono l'1% della popolazione adulta e il loro patrimonio si è gonfiato del 2,3%. Il fattore più determinante della crescita non è stato tanto l'andamento positivo dei listini azionari, quanto il boom dell'immobiliare, esploso durante i mesi di lockdown. Ma non è tutta colpa del Covid. Secondo un rapporto a Eurostat, la forbice tra ricchi e poveri andava allargandosi, anche negli anni precedenti la pandemia, di circa lo 0,2% tra il 2018 e il 2019. L'indagine del Covid.